in tenda grosseto no niente la prima volta a grosseto in tenda e amico amico non si butta la roba per terra che cazzo vuoi spiegare volevo spiegare perché sono no fammi spiegare chi sarebbe sta troia scusa allora se mi fai spiegare io si spiegano a quei pupazzi di merda che cerchi di accomodare e c'entrano ora i pupazzetti di merda buttali arnaldo buttali e prendi una decisione nella tua cazzo di vita no anita ma cosa stai dicendo sto dicendo che sei amorfo tutto scontato da quanto tempo ti dico di fare qualcosa di bello insieme quante volte ti ho detto di andare a vedere l'alba boreale tu invece perché tu ho detto di no ma magari mi avessi detto di no magari almeno resti preso una decisione nella tua vita neanche riesci a scegliere tra zuppa e passato e ora sta a vedere che la colpa della zuppa sai che ti dico eh che sono contenta e sai perché perché almeno hai chiesto una decisione mi hai detto questo zuccolone una tascia e dietro il naffanculo tutte e due insieme tieni e leva questa cazzo di pistola no almeno il pieno è fatto io non ci posso credere e non provare a tornare a casa eh